La storia racconta che Garibaldi con i suoi uomini si trovava all'interno della rocca Danfo, che vedi là di dietro, tutto lungo la costa del Monte Censo. Se guardi col binocolo vedi molto bene tutte le bocche da fuoco. Esatto, esatto. Ecco, perfetto. 6, 9, 12, 13, ne erano parecchie. La mattina del 3 luglio 1866 Garibaldi, guardando col cannocchiale, vide gli austriaci che erano arrivati fino qui alla chiesetta di Sant'Antonio e allora si innervosì e diede subito l'ordine di ricacciarli oltre i confine e qui cominciò la battaglia di Montesuello, per cui all'inizio gli italiani avanzarono ma furono subito presi dal fuoco nemico e quindi ci furono subito dei morti e dei feriti, sia tra ufficiali che soldati e tra cui anche Garibaldi, poco più avanti qui fu un ferito, c'è ancora un cippo. Dopodiché, proprio sulle balze sopra alla chiesetta di Sant'Antonio, il colonnello Bruzzesi riuscì a piazzare due cannoni e cominciò a cannoneggiare tutte le coste del Montesuello, tutte queste, da qui fino a dove finiscono e quindi a questo punto gli italiani riuscirono a cambiare le sorti della battaglia, riuscirono in poco tempo ad avanzare e gli austriaci fuggirono tutti oltre confine nel giro di poco. Grazie. 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 Grazie.